ben tornati a radio design dopo un'assenza lunghissima si torna finalmente con la quarta puntata incredibile di sanguigna created by elisabetta enrietti allora siamo qui con elisabetta come dicevamo abbiamo una puntata particolare come tutte esatto vuoi dire tu il titolo di questa puntata non li metangere cosa significa non mi toccare bene questo è un classicone lo dico sempre anche io infatti chi mi conosce sa che odio le distanze ravvicinate odio diciamo le persone troppo ravvicinate questo già l'ho detto ma non sono l'unico infatti c'è un po di me dentro di me un po l'artista giusto perché c'è un grande artista che non amava essere toccato non amava essere toccato però dobbiamo partire dal principio fare un preambolo se no tutto questo non partiamo dal principio attivo vai allora stiamo parlando di chi vuoi dirlo subito vuoi svelarlo così lo diciamo lo diciamo lo diciamo di cesane ok cesane nato non vuol dire sesamo in italiano giusto che non posso andarmene allora cesane che è nato diciamo nel 1839 ok ed è morto nel 1906 queste nozioni che è nato quando è partita la guerra mondiale la seconda è incredibile pensa un po e non frega niente ma non è questo il punto ecco partiamo con i punti il punto è chi era questo pirla allora praticamente praticamente allora lui è stato insieme a van gogh di cui abbiamo già abbondantemente parlato e a goguen l'anello di congiunzione tra l'ottocento e le avanguardie del novecento quindi è stato a cavallo tra questi due due secoli è ricordato per il quadro il dipinto i giocatori di carte dipinto che appunto si diceva essere allora ci sono questi due al tavolo che giocano attenzione uno di fronte all'altro si diceva quasi che lui volesse rappresentare la lotta tra lui e suo padre con questo appunto con questo semplice quadro voleva rappresentare una cosa in realtà gigantesca questo è un mio ricordo del del liceo che magari sto sbagliando tutto e allora però non è questo il punto perché qua non parliamo di cose noiose almeno proviamo a non farlo ci proviamo infatti infatti beh allora un'altra parte del preambolo che vabbè diciamolo giusto per contestualizzare un po' Cezanne era povero ricco secondo te ovviamente povero tutti sti artisti no era ricco Cezanne oh caspita era ricco e si veniva da una famiglia agiata e doveva infatti fare il banchiere e invece però lui sa che ha detto ha detto mo basta io non lo voglio fare motivo per il quale poi ha litigato con il padre suppongo suppongo ci ha già già giocato a carte poi si odio giochiamo a casa si ridotta così la cosa ebbene ma non è questo il punto e punto è che ha detto io non voglio fare il banchiere cosa divento poteva diventare macellaio veterinario scalpellino poteva gestire i social dell'azienda del padre si certo la massoneria nasce con gli scalpellini del tempio di gerusalemme quindi una professione artigianale antichissima ebbene ma Cezanne non l'ha considerata e ha detto divento un artista divento un artista un artista che però aveva un modo anche particolare di interpretare l'arte perché per esempio tra morta che cos'è una natura morta una pianta viva non esattamente quelle rappresentazioni quei quadri con la frutta quattro arance cinque banane certo che lo so non lo posso dire se no sempre troppo intelligente sia mai che poi tutti si innamorano di te allora ebbene per fare un quadretto così con con della frutta raccolta e lui ci metteva cento sedute ci metteva cento volte si metteva lì e lo dipingeva forse era fuori mercato diciamoci la verità esatto sembra un po io con i loghi però portato un po all'estremo 150 volte io non mi immagino sta poveraggia di modella cosa non dovesse fare cioè doveva sopportare sta tipa cento volte di stare lì a sopportare 150 150 sedute ebbene però appunto non è questo il fosse una bella donna ci proverei anche io ripeto 150 volte prego ma non è questo il punto il punto è che appunto cercando cercando informazioni su cesanne su internet si trovano gli si abbinano degli aggettivi non molto gentili non non molto gentili un po tristi si dice che era introverso era ansioso brutto era timido ma a sto punto suppongo queste cose nemmeno può essere bello insomma una personalità turbolenta mi piace mi piace come descrizione e aveva dei pensieri ossessivi e turbolenti aggiungerei io sì e infatti infatti lui non voleva essere toccato ma a livello proprio ossessivo tant'è tant'è che alla sua domestica ha detto guarda tu stai lì ti pago pulisci ma camminami lontano e non azzardarti a toccarmi vai muro muro e non mi guardare nemmeno esatto esatto e si narra anche io questa informazione appunto chiarisco io l'ho ricercata perché l'avevo vista mesi fa non l'ho più trovata sentito i suoi bis bis nipoti tris nipoti esatto e mi è stato detto che una volta lui stava passeggiando con qualcuno che se la memoria non mi inganna ma mi ingannerà sicuramente era un altro artista era solà ok emil solà esatto ebbene stavamo passeggiando lui eh cesanne ha rischiato di cadere da un burrone e siccome non voleva essere toccato ha rischiato di morire infatti c'è stato una lite almeno se mi ricordo bene mi aveva fatto piuttosto ridere e in ogni caso ti stanno chiamando eh va bene capita ok ebbene ebbene allora praticamente chiaramente questo suo carattere un po così un po turbolento non era molto gradito dai suoi amici diciamocela tutta e addirittura a manè un giorno manè è arrivato lì voleva stringergli la mano ci chiamava manè che doveva fare poverino ascoltami che ti dico è andato manè è andato da cesanne ha detto oh che bello rivedersi e manè no e cesanne gli ha detto mi ha detto non le stringo la mano signor manè perché sono due settimane che non la lavo ora o era poco attento all'igiene questo cesanne oppure suppongo che gli abbia detto una mugia per non stringergli la mano ebbene ecco poi appunto era piuttosto piuttosto folle tant'è che nel nell'ultimo periodo della sua vita lui ha dipinto 50 opere di un monte in provenza il mont saint victoire lui si è messo lì ha fatto 50 quadri uguali voilà fatto e così ha speso al meglio gli ultimi anni della sua esistenza come dicono i tedeschi übung macht den meister cioè l'esercizio rende maestro e lui penso che ha esagerato un po' però temo di sì 150 volte colpo altra notizia sconvolgente vai perché dobbiamo chiudere altra notizia sconvolgente era sposato incredibile non voleva essere toccato ma era sposato però 150 esatto però niente panico perché poi nel 1895 ha detto mo basta e la sfanculata ecco povera moglie di questo povera ci dispiace sei in diretta ci dispiace saluto pamela santi tra l'altro colgo l'occasione grazie mille pami sei stato un sogno per i tuoi 200 anni della bow house che erano 100 va bene direi che tutto ci stanno chiamando ovunque quindi direi che possiamo chiudere questa puntata top direi io ho riso più che parlato vorrei stringerti la ma ne ma non si può perché non li metangere ricordiamo sempre sul pezzo ciao è stato veramente ciao 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 ciao